In studio, Viviana Sammito. Buonasera, l'avete sentito, il Parlamento europeo ha approvato la norma contro l'inquinamento ambientale e atmosferico delle aziende zootecniche. Questo è un settore trainante per l'economia della Sicilia, adesso la palla passa al Consiglio, prima appunto della pubblicazione in gazzetta ufficiale, poi gli Stati membri hanno 22 mesi di tempo per adoperarsi e allinearsi alla normativa europea. Allora vediamo meglio cosa contiene questa nuova direttiva nel servizio. Il Parlamento europeo ha approvato le norme per ridurre le emissioni nocive degli impianti industriali e dei grandi allevamenti di suini e pollame per proteggere la salute e l'ambiente. La direttiva sulle emissioni industriali è il principale strumento dell'Unione europea che regola l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da parte degli impianti industriali, compresi degli allevamenti intensivi, che possono portare a problemi di salute come l'asma, la bronchite e il cancro. Disciplina ha inoltre le produzioni di rifiuti, l'uso di materie prime, l'efficienza energetica, l'inquinamento acustico e la prevenzione degli incendi. L'accordo è stato raggiunto in via definitiva con gli Stati membri con 393 voti favorevoli, 173 contrari e 49 astenzioni. E' del regolamento sul nuovo portale delle emissioni industriali con 506 voti favorevoli, 82 contrari e 25 astenzioni. Il nuovo regolamento coinvolge tutto il comparto zootecnico, motore trainante dell'economia siciliana. La legge deve ora essere adottata anche dal Consiglio prima di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore 20 giorni dopo. Gli Stati membri avranno poi 22 mesi per conformarsi a questa direttiva. La nuova legge prevede di estendere le misure delle emissioni industriali degli allevamenti di suini con più di 350 unità di bestiame. Sono escluse le aziende che allevano suini in modo estensivo o biologico e quelle che lo fanno all'esterno per un periodo di tempo significativo su un anno. Per il pollame la direttiva si applica alle aziende con galline da uova il numero superiore alle 300 unità e alle aziende con polli da carne con più di 280 unità. Per le aziende che allevano sia suini che pollame il limite sarà di 380 unità complessive. Dopo il voto il relatore bulgaro Radan Kenev del PPE ha dichiarato Il voto di oggi dimostra l'impegno del Parlamento verso l'obiettivo emissioni zero della Green Deal e per la salute degli europei. Dimostra inoltre che tali obiettivi possono essere raggiunti senza imporre ulteriori oneri amministrativi alle imprese e in particolare agli agricoltori europei. Il voto sottolinea che i deputati capiscono le ragioni delle proteste degli agricoltori. L'emergenza sui costi di produzione continua dunque anche la protesta degli agricoltori che si sono riuniti alla Camera di Commercio di Ragusa. La protesta degli agricoltori e dei comitati spontanei dei trattori dell'area Iblea si sposta nelle aule istituzionali. Ieri sera c'è stato un partecipato incontro alla Camera di Commercio di Ragusa e i produttori hanno avuto modo di confrontarsi con una delegazione di sindaci delle province di Ragusa e Siracusa e con la deputazione Iblea. Alla riunione infatti erano presenti l'onorevole Enello Di Pasquale, l'onorevole Stefania Campo e il senatore Salvo Salemi. Riflettori puntati sulle emergenze legate ai costi di produzione, sulle posizioni debitorie in capo alle imprese e sulla tutela delle produzioni nostrane e del made in Italy. Sono state gettate le basi perché un gruppo di lavoro possa emergere e portare avanti le tematiche più urgenti per il territorio nel rispetto delle norme comunitarie vigenti. Finalmente si assiste all'unione tra le varie anime delle proteste delle scorse settimane, dichiara Marcello Guastella, che annuncia che a Ragusa nascerà un laboratorio di idee che farà da apripista a livello regionale e di cui faranno parte i rappresentanti dei presidi di Modica, Ragusa e Vittoria, ma anche di Palazzolo, Rosolini, Gela e Niscemi. Presente all'incontro un sacerdote che da anni segue i produttori nelle loro proteste, delle quali condivide pienamente le ragioni. I problemi si sono aggravati per l'agricoltura. Il prezzo del prodotto della campagna è sottovalutato rispetto a quante finisce sui bongoni di vendita. Gli agricoltori lavorano ma portano debiti perché in fin dei conti il prodotto se lo ruba la grande distribuzione e poi ne fa quello che ne vuole e siccome le spese ci sono l'agricoltore è sempre in perdita. Come mai lei ha questa sensibilità così spiccata verso il mondo dell'agricoltura? Da un fatto personale che io sono figlio di contadini, mi ha sempre interessato questo mondo agricolo, no? E che ho visto che a mano a mano sta perdendo. Cosa si sente di dire lei a questi agricoltori che stanno cercando di organizzarsi e di lottare insieme? Seguire i mercati nazionali e diventare soggetti attivi. Occorre fare una lotta seria, ma una lotta studiata, farsi sentire dalla politica. I pescatori di Lampedusa si sono andati appuntamento alla Camera dei Deputati. È stata convocata anche una conferenza stampa, il punto nel servizio. Oggi per la prima volta i pescatori di Lampedusa hanno fatto sentire la propria voce alla Camera dei Deputati e dai microfoni della Sala Stampa hanno avanzato al Governo principalmente due richieste. La raccolta dei relitti e dei resti delle imbarcazioni dei migranti, che da anni rappresentano un pericolo per il lavoro dei pescatori, oltre che ovviamente un danno ambientale, e lo stanziamento di ristoria a compensazione delle evidenti perdite. Lo dichiara Abubakar Somaoro, deputato e organizzatore della conferenza stampa che ha visto protagonisti i pescatori di Lampedusa. È un problema ormai trentennale, questo, aggiunge il deputato, che inficia pesantemente sull'economia dell'isola, che si basa largamente sulla pesca e sul turismo. Questo problema è antico e il Governo ce l'ha ben presente, perché è stato rappresentato a tutti i politici venuti a Lampedusa, spesso solo per fare una passerella, dice Salvatore Martello, ex sindaco dell'isola e presidente del Consorzio dei Pescatori. Ad oggi però, spiega Martello, nessuno se ne è fatto veramente carico, né a livello governativo né a livello europeo. Ce la ricordiamo bene la presidente von der Leyen sull'isola e ricordiamo come non abbia trovato tempo di parlare con i Lampedusani e ascoltare dalla loro voce i loro problemi e le reali necessità. Noi siamo veramente la porta d'Europa, e per questo anche l'Europa dovrebbe prestare ascolto alle richieste di noi pescatori che facciamo un lavoro duro e che pretendiamo la salvaguardia dell'ecosistema del nostro mare che evita il lavoro, conclude Martello. Chiediamo al Governo di dare seguito all'ordine del giorno approvato alla Camera e gli chiediamo soprattutto di cambiare strada, cambiare approccio. È fondamentale per noi non lasciare più alla deriva le imbarcazioni dei migranti dopo i salvataggi. Sono imbarcazioni che dopo qualche ora vanno a fondo e provocano ingenti danni come la rottura delle nostre reti, spezzate dai rottami. Oltre alla pulizia e alla bonifica dei fondali, noi chiediamo che queste imbarcazioni vengano immediatamente spostate dopo il salvataggio in spazi opportuni, aggiunge Piero Billecci, pescatore e presidente dell'Associazione Armatori di Lampedusa. È necessario superare le criticità per i procedimenti che riguardano le invalidità civili da parte delle ASPO. Una mozione è stata presentata dal Comitato regionale dell'Inps al Governo Schifani. Il Comitato regionale dell'Inps Sicilia chiede al Governo regionale di accelerare i tempi delle pratiche di accertamento dell'invalidità civile in alcune province siciliane e in particolar modo a Palermo. A fronte di evidenti riduzioni dei tempi da parte dell'Inps, che in Sicilia fa registrare rispetto al dato nazionale un'attività molto performante, il Comitato riceve invece numerose segnalazioni da parte dei cittadini, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni in merito a forti ritardi nell'espletamento delle visite delle commissioni mediche istituite nelle aziende sanitarie provinciali, con evidenti conseguenze negative sui tempi di attesa e su quelle di definizione del procedimento. L'intera procedura dovrebbe essere spiegata in 120 giorni, ma nell'isola in media ne occorrono 204. Di questi, solo 23 giorni si riferiscono agli uffici Inps. Il resto dipende dalle ASP. Le pratiche in giocenza a Palermo sono 73.000. Secondo i dati alla mano del Comitato regionale Inps, solo in due province i tempi sono strettissimi, Trapani e Messina. In quest'ultima città la giocenza è di 54 pratiche. L'obiettivo è stato raggiunto con un protocollo firmato nel 2021 che trasferisce le procedure di accertamento dall'ASP all'Inps. Ha concluso Tranchina la Presidente del Comitato. L'iter prevede che l'ASP territorialmente competente, acquisita telematicamente la domanda da parte dell'interessato, calendarizzi il prima possibile nella stessa ASP, o qualora ne ricorrono i presupposti a domicilio, una visita volta a verificare lo stato di salute del richiedente alla prestazione. Per la Presidente Tranchina, non avere in tempi ragionevoli il verbale che atteste il riconoscimento dell'invalidità significa non poter ottenere il sostegno scolastico per i minori, significa non poter furire l'assistenza adeguata ai genitori anziani o ai figli con disabilità, o più semplicemente non poter partecipare a concorsi riservati alle categorie protette. Il Comitato IMS ha fornito alla Regione alcuni suggerimenti per smaltire le richieste rimaste nevase, potenziare il personale, programmare un piano straordinario per lo smaltimento dell'arretrato e adoperarsi per aumentare il personale di presidio al ciclo dell'invalidità civile a partire dal personale medico delle aziende sanitarie, con un aumento delle ore previste di prestazione settimanale rispetto alle 25 di oggi. Una nuova protesta si è tenuta oggi a Palermo, dei nuovi guerrieri del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo all'ospedale di Taormina. In campo sono scese le mamme con i propri bambini. Un mimbo che piange è una frase che arriva dritta al cuore aiutami a salvare il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina e quanto campeggio sui volantini fatti girare anche sui social nei giorni scorsi e distribuiti oggi a Palermo durante la protesta organizzata dai guerrieri del CCPM per sensibilizzare gli organi regionali al mantenimento all'ospedale San Vincenzo del reparto di eccellenza gestito dal Bambin Gesù di Roma. Le famiglie infatti ormai da più di un anno si battono affinché il centro non venga chiuso. Si va avanti per proroghe, soprattutto da quando è stato aperto a Palermo un reparto simile presso il civico. Schifanime si fa annunciato che quando entrerà a regime la Cardiochirurgia Pediatrica di Palermo il reparto di Taormina verrà chiuso, chiusura prevista per la fine di luglio. Ecco perché serve la deroga al decreto Balduzzi per far coesistere i due centri. I genitori però non si arrendono e ricordano come il CCPM di Taormina sia il terzo centro di eccellenza in Italia. Un'eccellenza che ha salvato la vita migliaia di bambini non solo siciliani ma anche calabresi e di altre parti d'Italia e del mondo. Non a caso oggi erano presenti a Palermo famiglie provenienti oltre che dalla Sicilia e dalla Calabria anche dal nord Italia e da altre parti del mondo. Hanno tenuto in mano dei cartelli per indicare la loro provenienza. Abbiamo avuto oggi un incontro con il capo di gabinetto, il dottor San Martano il quale ci ha detto che il giorno 20 e 21 di marzo ci sarà un incontro al Ministero della Salute in cui parteciperà anche il bambino di Roma. Dicono che stanno lavorando per la richiesta della deroga. Noi ovviamente aspettiamo e vogliamo azioni concrete e vogliamo soprattutto che questa azione sia fatta il più breve possibile perché il 31 luglio si avvicina e chissà che il proprio figlio sarà operato dopo il 31 luglio come faremo? Dove andremo? Per questo noi chiediamo ovviamente di avere la risposta il più breve possibile ma non lo dico solo per i nostri figli ma anche per tutti i bambini della Sicilia e Calabresi. Parliamo adesso della stabilizzazione degli ASU il Consiglio dei Ministri non ha impugnato la norma contenuta nella finanziaria regionale ma i sindacati stanno cauti il punto nel servizio. L'articolo 10 della finanziaria regionale approvata lo scorso gennaio e che riguarda la stabilizzazione dei 3.700 lavoratori ASU impegnati nei comuni e nei beni culturali non è stato impugnato. Uno storico obiettivo di giustizia sociale per il quale mi sono battuto durante gli anni con interrogazioni parlamentari. A darne notizia il presidente della Commissione Sanità Lars, Giuseppe Laccoto una giornata storica per il deputato regionale Ignazio Abate che punta l'attenzione in provincia di Ragusa. Sono centinaia, dice, quelli attualmente impiegati all'ASPO nei comuni. Un passo importante anche per Vito Sardo, segretario regionale Aleogl che al contempo ribadisce Siamo Cauti. È necessario ricollocare circa 600-700 persone che appartengono al privato sociale. Dobbiamo vedere quelli che sono negli enti locali la situazione qual è perché molti enti in Sicilia hanno notevoli difficoltà di carattere finanziario così come poi ci sono altri soggetti che sono nel privato sociale per i quali è necessario ricollocare questi soggetti che già dal 2017 la Regione avrebbe dovuto adempere a tale obbligo di legge ma che ad oggi non ha fatto. Quali sono adesso i passi successivi da compiere? Il percorso prevede decreto attuativo da parte della Regione che già come sindacati lo abbiamo chiesto perché ad oggi non è chiaro quanto verrà elargito a ogni ente che va a stabilizzare ogni singolo soggetto tranne per quelli del bene culturale che è stato descritto che verranno garantite 30 ore. I sindacati pronti a non abbassare la guardia sulla vicenda che coinvolge i lavoratori ASU. Noi abbiamo già sollecitato il Dipartimento Lavoro che è l'ente competente quindi faremo ulteriori pressioni su questo Dipartimento e allo stesso tempo inviteremo la politica ad attivarsi per tutti questi atti che mancano. Si chiude finalmente in maniera positiva la pagina di precariato dei lavoratori ASU. Adesso ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Arsa tocca proprio a lenti utilizzatori concludere l'itere burocratico della stabilizzazione affinché il percorso di insedimento nelle piante organiche avvenga nel più breve tempo possibile. Così Catanzaro, dopo che la norma della stabilizzazione dei precari inserita nell'ultima finanziaria regionale ha superato il vaglio del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Regione Renato Schifani ha convocato a Palazzo d'Orleano a riunione con il ragioniere generale Ignazio Tozzo e il capo di cabinetto della Presidenza Salvatore Sanmartano per analizzare punto per punto i rilievi effettuati dal Governo nazionale alle norme sul collegato della legge di stabilità regionale. Un confronto utile per avviare al più presto un'interlocuzione istituzionale e personale ha dichiarato il Governatore con Roma e fornire tutti gli elementi necessari a superare le criticità indicate. Con la colla che andiamo adesso a parlarvi di un'operazione antimafia. Caltanistetta, la Polizia di Stato ha eseguito 55 misure cautelari. 55 misure cautelari per associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. 500 uomini della Polizia di Stato coordinati dal DDA della Procura di Caltanistetta che ha dato l'ok anche per le perquisizioni di tutti gli indagati e dei luoghi nella loro disponibilità per ricercare armi e droga. 32 sono gelesi, 4 di Catania, 4 di Palermo, 12 della provincia di Agrigento e 3 della provincia di Reggio Calabria. Le indagini sono iniziate nel 2018 ed hanno acclarato la piena operatività di due gruppi che animano la consorteria mafiosa nel territorio, ovvero il gruppo Rinzivillo e il gruppo Emanuello. Dalle indagini sono emersi gravi indizi anche sugli investimenti di Cosa Nostra, operante a Gela nella realizzazione di serra e finalizzate alla coltivazione di marijuana che sarebbe stata poi utilizzata come merce di scambio per ottenere cocaina dalle organizzazioni criminali regine catanesi. Il traffico di droga per i gelesi consisteva nell'importazione di cospicui quantitativi di cocaina e hashish e nell'esportazione di marijuana. La droga sequestrata si aggira a circa mille chilogrammi. Ogni settimana veniva emessa sul mercato uno o due chilogrammi di cocaina con guadagni che arrivavano anche a milioni di euro. I dettagli illustrati oggi in conferenza stampa alla questura di Cattanissetta alla presenza tra le altre del questore Giuse Agnello e del procuratore capo Salvatore De Luca che ha dichiarato Gela una sua specificità su tutto il territorio regionale ma anche nazionale un territorio dove vi sono due famiglie mafiose Rinzivillo ed Emanuello e in più la Stidda. Le tre compagini criminali hanno raggiunto un'intesa una pax mafiosa ormai da tempo e questo è anche merito delle forze dell'ordine perché quando le organizzazioni mafiose sentono la pressione da parte dello Stato tendono a compattarsi. D'esta particolare preoccupazione invece ha detto ancora De Luca la presenza di armi. Nel corso di questa operazione è stato sequestrato un ordigno esplosivo ed è emersa sia dalle dichiarazioni di un collaboratore che dalle intercettazioni la disponibilità di uno degli indagati di un Kalashnikov che usato da persona che sa come usarlo può anche bucare un'autovettura blindata. Emergono anche le disponibilità di pistole e un fiorente mercato delle armi. Uno dei soggetti di maggiore caratura dell'operazione è Giuseppe Tasca regente della famiglia Rinzivillo un soggetto che ha espiato decine di anni di carcere. A Messina è stata sgominata invece un'associazione delinquere che operava in sinergia con un altro clan calabrese. La polizia di Messina ha eseguito dieci misure cautelari in carcere al termine delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Messina e condotte dalla squadra mobile. L'attenzione degli inquirenti si è concentrata su un'associazione a delinquere verticisticamente strutturata finalizzata alla detenzione e al traffico di stupefacenti. Le indagini sono partite dal duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò il 2 gennaio 2022 a Messina per il quale è stato arrestato un messinese ritenuto l'autore materiale rintracciato a Rosarno dopo tre mesi di latitanza. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di scoprire un gruppo criminale operante nel territorio messinese in particolare nel rione Camaro dedito allo spaccio di cocaina, marijuana e crack. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare che il gruppo collaborava con spacciatori operanti nel territorio calabrese e già nel corso delle indagini sono state arrestate quattro persone e sequestrati 50 kg di droga armi e munizioni. Sulla scorta del quadro indiziario il giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i 10 indagati. Per la buona riuscita dell'operazione la squadra mobile di Messina ha lavorato in sinergia con le questure di Reggio Calabria e Catanzaro e con il reparto prevenzione e crimine Sicilia orientale. C'è una breve pausa pubblicitaria siamo da voi tra poco ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG vi parliamo del caso della 58enne che per impossessarsi dell'eredità della prozia l'ottantenne Maria Basso è stata accusata dell'omicidio e circonvenzione di incapace oggi si è tenuta un'udienza al Tribunale dell'esame durante la quale è stato chiesto l'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari si svolta davanti al Tribunale dell'esame di Catania all'udienza sulla richiesta di annullamento della misura cautelare emessa dal GIP nei confronti di una 58enne agli arresti domiciliari con l'accusa di circonvenzione di incapace e di omicidio aggravato della prozia Maria Basso di 80 anni l'istanza è stata presentata e motivata in aula dal legale della donna l'avvocato Carmelo Peluso la procura di Catania è rimasta sulle proprie posizioni sollecitando la conferma della misura cautelare secondo l'accusa basata su indagini dei carabinieri di Acicastello la persona indagata avrebbe provocato la morte della donna per entrare in possesso della sua eredità un caso che ha dato scalpore nelle scorse settimane che è stato al centro di una meticolosa indagine da parte dei militari dell'arma per ricostruire anche le ultime fasi della vita dell'ottantenne secondo le indagini la donna avrebbe ucciso la zia facendole ingerire degli spaghetti e del dolce che non poteva mangiare se non spezzettati per una grave patologia che la costringeva a mangiare cibi omogeneizzati una ricostruzione contestata dall'avvocato Peluso l'avvocato ha ribadito che la ottantenne ha mangiato spaghetti triturati e fatti a poltiglia così come fatto altre decine di volte ribadendo le stranità e i fatti della propria assistita è agli arresti domiciliari ma evade perché non riesce più a stare a casa con i familiari ma prima di fuggire dall'abitazione chiama i carabinieri vi avevamo raccontato qualche giorno fa del pregiudicato catanese di 25 anni arrestato dai carabinieri per estorsione poiché aveva costretto un minorenne che si era affermato per fare il rifornimento di benzina al proprio motociclo a pagargli il pieno nell'auto per quasi 100 euro dopo la denuncia del ragazzino l'uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico ma a quanto pare la convivenza forzata con la famiglia ha rappresentato per lui un problema insormontabile al punto che dopo sei giorni ha deciso di telefonare ai carabinieri per annunciare loro la sua evasione per quella che si potrebbe definire una causa di necessità in effetti dopo pochi minuti i carabinieri hanno verificato la sua fuga dall'appartamento segnalata anche dall'allarme del braccialetto elettronico e hanno iniziato a cercarlo rintracciandolo a poca distanza da casa in compagnia della fidanzata che cercava di convincerlo a rientrare il 25enne ha però riferito ai carabinieri di non avere assolutamente intenzione di rimettere piede nell'abitazione e che se lo avessero costretto a farlo avrebbe messo in pericolo l'incolumità dei familiari conviventi a questo punto di concerto con l'autorità giudiziaria l'uomo è stato arrestato per evasione e condotto nel carcere di piazza Lanza Aumento nei casi di morbillo in tutta Italia i medici raccomandano la vaccinazione In tutta Europa e anche in Italia si è registrato un aumento dei casi di morbillo il sistema di sorveglianza coordinato al Dipartimento di Malattie Infettive e l'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato 29 casi nel mese di gennaio del 2024 e a febbraio 35 per il 30-40% importati in provincia di Catania nei mesi di gennaio e febbraio 2024 sono stati accertati 15 casi tutti in soggetti non vaccinati a età compresa fra un mese di vita e 48 anni ecco perché vaccinarsi diventa importante tant'è che ad esempio l'ASP di Catania sta promuovendo una serie di iniziative per aumentare la copertura vaccinale e migliorare il sistema di sorveglianza e di notifica della malattia al fine di poter contenere il contagio Purtroppo la copertura vaccinale è bassa anche in Italia soprattutto in Sicilia e siamo a livelli imperiore al 90% per raggiungere una copertura ottimale e quindi raggiungere l'immunità di gregge è necessario raggiungere un 95% i 30 anni i 40 anni difficilmente sono vaccinati ecco perché l'infezione si sta spostando nelle fasce d'età più alte parliamo di 30 anni 40 anni che probabilmente da piccoli non sono stati vaccinati perché il vaccino non era disponibile perché non c'era l'obbligo perché non c'era la cultura la vaccinazione che dovrebbe esserci Per riconoscere chi è affetto da morbillo e soprattutto la nuova variante come si procede? Intanto la diagnosi è prevalentemente clinica quindi febbre elevata macchie sul corpo tipiche del morbillo poi si procede ad un esame di laboratorio dove si vanno a dosare le immunoglobuline M e le immunoglobuline G e poi per studiare meglio la malattia si fa un tampone orofaringeo come quello del covid si raccolgono le urine e si inviano a un laboratorio che va a tipizzare i sottotipi del morbillo in ogni caso la malattia ha lo stesso decorso che è molto grave e può lasciare dei reliquati molto importanti rivenuto un teschio a Catania continuano le indagini da parte della questura per fare luce su questo caso saranno la polizia e il medico legale a chiarire alcuni aspetti legati al ritrovamento di una porzione ossea di pochi centimetri ossa forse di un teschio il ritrovamento è avvenuto a Catania nei pressi e la biblioteca civica Orsino Recupero alle spalle della chiesa di San Nicolò l'arena tutto è accaduto ieri pomeriggio quando alcuni ragazzi si sono recati in un fossato per recuperare il pallone che dentro era caduto scennendo nella parte più bassa di questo fossato hanno notato vicino a una vecchia caditoia i resti che a prima vista sono sembrati quelli di un teschio scappati via sono andati nel vicino dipartimento di scienze della formazione avvisando dei professori che hanno subito allertato la polizia recatesi sul posto gli agenti insieme ai vigili del fuoco al medico legale hanno immediatamente effettuato un sopralluogo notando anche altri pezzi ossei in totale sarebbero tre i pezzi ritrovati adesso tutto verrà analizzato per l'appunto al medico legale che innanzitutto dovrà dire se si tratta di ossa appartenente a una scatola cranica e per capire da quanto tempo è avvenuto il decesso pare che si tratti di un teschio antico le innagini sono state affidate alla squadra volanti e alla questura di Catania il ragazzo è arrivato qui ha trovato appunto questo resto di un teschio e poi comunque stanno a seguirsi dei vocanti dei carabinieri scientifica e quant'altro vigile del fuoco lei cosa ha sentito? l'ho trovato qua o il testo no la testa ma lei si è fatto un'idea? no io ci devo fare è davvero tutto con questo servizio grazie per la cortese attenzione a voi tutti buona serata no qui i i i i i i i i i